Un saluto al dottor Albanese Grazie Congratulazioni Grazie Questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi, certe volte più un combattimento c'è Quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene Come se il mondo è contro te e tu non sai il perché, lo so me lo ricordo bene Sapete cosa ci vuole per fare sesso in ascensore? Cosa ci vuole per fare sesso in ascensore? Mi aiuti un po' Non se ne aspetta Non se ne aspetta Non avrei idea Niente, vi rendete Un bottone Cosa? Un bottone Ci vuole un piano Ma questo è il testo No, questo è il testo Ci possiamo andare Ciao ragazzi Io sono qui Per ascoltare un sogno non parlerò Se non ne avrai bisogno ma ci sarò Perché così mi sento accanto a te Viaggiando contro vento risolverò Magari poco o niente Magari poco o niente ma ci sarò Qua sarò Che spegnerò un momento accanto a te Viaggiando contro vento Viaggiando contro vento Viaggiando contro vento Mia Poi Mi Grazie a tutti